Il significato è quello di andare a visitare i luoghi dove ci sono state le stragi e gli ecidi nazifascisti durante la seconda guerra mondiale per poter onorare tutti questi morti che ci sono stati e vi assicuro che sono tantissimi e non c'è come andare sul posto per rendersi conto di quello che è veramente successo perché un conto è leggerli sui libri, sui giornali eccetera, mandare sul posto, toccare con mano, sentire le storie anche di persone che non hanno mai parlato e ti raccontano piccoli aneddoti è qualcosa di veramente emozionante. Questa è anche un'occasione per vedere lo splendido lavoro operato sulle lapidi fatte ringiovanire D'Ampi Provinciale Varese che è anche l'organizzatrice della tua impresa. Sì certo questo è veramente una cosa onorevole che fa l'Ampi Provinciale di Varese ma questo viaggio non è solo l'Ampi Provinciale di Varese che lo ha patrocinato ma anche il Provinciale di Milano quindi non è che ci siamo fatti mancare nulla con poi tutte le Ampi locali che mi accorgono, tutti mi ospitano, si fanno in quattro, in mille per potermi aiutare. Giovanni prossima impresa? Il prossimo viaggio è la continuazione del viaggio delle stragi nazifasciste in tutta Italia avendo diviso l'Italia in quattro parti nord ovest, nord est, centro Italia e sud. Questo è stato il completamento dell'Italia del nord ovest fatto in due tratti per causa Covid e il prossimo anno se tutto andrà bene farò l'Italia del nord est e poi tutto il resto. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!